bello a tutti squale per soli il primo di questo nuovo video io sono ad essere spacciati dei ternan sharks oggi siamo sulla tech kit ancora solo ancora non siamo riusciti a mettere il pacchetto nel server che non abbiamo tempo sinceramente dopo aver fatto una lunga camminata cioè lunga medio lunga camminata sono riuscito a trovare una cazzo di caverna quindi andiamo in gaverni un po di legno ce l'ho quindi va bene io non so perché ho anche la gomma ragazzi non me lo chiedete manco le torce un po' anni scappato lo suono così si risolve tutto quattro pazzi parla di altre tre cose ah ma ce l'abbiamo le torce allora iniziamo da qui iniziamo da qui lo sai che non c'è niente e signor clip per la vesplode così non non ho ma qui in capi di 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 facciamo prima una spada va che non me la so portata dietro la spada la seconda che servono anche ste puttanate qui ok le spada mi fa una spada qua a due va si non ci c'ha mai padre ok via possiamo scendere giù e le torni qua via non c'è nessuno perfetto ragazzi perfetti iniziamo a prendere sto carbone e come è sempre importante ancora attraverso il video vi potrete solo le parti dove prendo i materiali yes per lo copper copper è cacca de puffi no aspetta cos'è la questione cacca de puffi no zaffi no la posso prendere mi sa zaffi vabbè cacca de puffi ok ragazzi mi sono fermato un secondo perché devo farlo ma un piccone in ferro il supporto scordato di portarlo quindi facciamo una fornace e facciamo un po di ferro tre ferro bastianza ecco cosa ma per buona che cuoce e riprendiamo intanto dice che sto registrando facciamo anche questo ferro visto che già stiamo qui li avevo visto l'uranio che ne ho appena anche l'urano che non so cosa ma so solo che da molto nella trasmutation tablet del samsung dell'apple non lo so è uguale o samsung apple è uguale cioè il tablet o samsung go away non è uguale allora togli qua qua 3 già già gli affa ok flash allora vabbè lo consumano tutti gli albi della gomma tutti gli albi della gomma e sono un coglione diamo intanto la cacca dei puffi questi sono i zaffiri no sì ho attaccato i zaffiri ok togli questo non ci dimentichiamo di nuovo della crafting tablet e a prendere quell'uranio e tutto sto ben di dio ovviamente anche guardo eh sì è bello vabbè va guardo sto guardando eh c'è l'olio ormai da sappo di guardo ehi taccio la prendere anche questo uranio tac buono prendo questo ben di dio e quindi di carbone ferro che l'ho visto che parte alla e va è questo ferro e ci dividiamo tra un poco eccome non poteva oh zio senti eh ma eh oh 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 non muore più ok vediamo anche sto ferro qui ferro la marvel qua già ce l'ho mi sa una ce la devi già avere un pezzo però ne abbiamo altri che sono qui giustamente venghi di caverna cappino di roba roba già siete spacciati proprio eh vediamo questo giaccio minecraft ok il zaffiro e sapphire questo è questo carbon e per rose dai 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 ancora mi dovete dire se tagliare i pezzi di caverna no quindi faccio metà metà un po' taglio un po' no ma almeno faccio con dendi con dendi con denti con denti tutti che senza denti c'è tutto vediamo qua continuiamo a prendere il ferro mi sa che dovrei tornare a casa che se trovo qualche altro materiale un po' più devo buttare qualcosa però non mi ingozzo a tornare a casa ok anche perchè mi sono perso mi sa che mi sono perso andiamo un po' vediamo allora nel caso saliamo all'andica come dice luke all'andica allora qui ho il genio oh qui c'è una strada è finta? è finta eh caverna finta giù io non so che sono ah non ho sporato lì eh ragazzi mi spiace ma buongiorno buongiorno si allora settiamo wardiamo qua vabbè ward ward oh my god oh my god qui c'è bella roba da prendere quindi facciamo così facciamo punto waypoint add caverna no caver caverna no gi gi caverna gi gigante caverna gi caverna gigante va bene si adesso torniamo a casa lasciamo le cose facciamo qualche altro peccone e ritorniamo e se possibilmente vediamo se riesco a farla una bag come si fa nel bag? e e il cesto ah non è molto difficile ma no no il diamond quindi ritorniamo su eh qua la uranio 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 cioè non uranio 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 qua da dove si saliva da là suppongo da là un po ok ok oh si vede qui c'è legge la crassi in tablet ce la riprendiamo e andiamo e corriamo a casa ok facciamo una cosa qua mettiamo un altro waypoint e lo chiamo add ed entrata caverna en erentata vabbè di nuovo ma sto fasullo qua sto fasullo via oh fasullo un altro ok vado a guardare quella caverna vado a guardare quella caverna vado a casa che deve essere la quindi un altro fasullo sai allora io mi d'accordo ciao un nendercats un nendercats via oh e mu elevati non andare a casa a dormire o sono è tardi dopo aver fatto questo episodio in caverna episodio questa parte di episodio in caverna ma faccio un'altra cosa prima di riscendere giù io so che non ho più cibo ne ho così panno ne ho però non mi ingozza di andare in caverna sinceramente che devo attrezzare un po' di più prima quindi andiamo un secondo a casa e mi faccio una bella cosa mi faccio una bella cosa mi faccio una bella farmi ehm di fanno occhi la e di questi dove sono i semi di flax e che cazzo è la zucca la delle anguglie e oh no e lish badomp di gripper corri fratello corri corri steve ah no non sono steve sono sono una matita matita corri matita e io le scorciatroie cioè le scorciatroie ok perfetto mangiamo depositiamo un po' di roba nella cesta dove c'è tutto tranquilli ragazzi la giusterò proprio questa cesta che rende c'è di tutto l'intero ok che cazzo l'anima vabbè andiamo a uccidere no nessuno devo fare una zappa che lì mi faccio un latte affam di grano la prima cosa facciamo una un'altra cosa allora dove sta dove sta qua perfetto la prima cosa facciamo questa cosa qua yup plaf 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 piper via 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 faccio una bella piena giornata di canne con la mario una cd zucchero ok la la e dai ok e ora andiamo a vedere andiamo a fare la pelle di grano e di quell'altra cosa con quindi quindi andiamo a casa corri 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 basta va bene facciamo una legna prendiamo la legna normale se ce l'ho mi sa di si perfetto prendiamo la legna normale facciamo una zappa così 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 e così zappa perfetto no ma zapparlo un secondo qui intanto i semi già ci li addosso si allora scaviamo qui il secondo no no la pala il secondo scaviamo qui scava 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 mettiamo faccia 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 ok mettiamo dei semi di grano un due tre due semi di questi così che non ho più quello io rimetto si questi dovrebbero essere di di angurie semi di angurie mi sa poi avevo anche le teste di di cosa la eh le teste brutte no no non le ho prese eh non sa che le ho viste ma non le ho prese vabbè dov'era fatto quella mini farm di co2 un po' quello lì è scavato un po' in caverna in caverna gli alberi si sono cresciuti a sto punto prima di chiudere l'episodio faccio un 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 treat up ok se ne ecco domani si va così 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 eccolo qua il treat up andiamo a prendere un po' di gomma da masticare boh madonna quando cazzo l'ho preso niente qui invece niente qui gomma e basta ragazzi posso dire che anche questo episodio è finito spolliciate commentate dicetemi ricordatevi di dicetemi ricordatevi di dicere a me ehm ehm se tagliare i video in caverna oppure no è da 7 episodi che vi lo chiede ma un hashtag si e un hashtag no no me l'avete scritto quindi continuo a ripeterla continuo a ripetere che il nostro ts cambiate stiamo nel test di look stiamo in un abitivo pattern quindi cercate di supportarci per variare 30 mila views al giorno al mese vabbè al giorno al mese così c'è diventiamo più overpower entriamo nei gg che dire ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi la 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 la